la pasta la tagliatella 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 o tagliatella? vieni io non vi ricordo che cosa avevi detto di fare il sottovuoto si la tagliatella andrei io? si ma io non stavo facendo un video si è volata la tua comanda adesso arrivo io direi che questa va è venuto il frigo? si è venuto? è venuto?